Si è insediato ieri il nuovo procuratore generale di Reggio Calabria, Gerardo Dominiani, già procuratore della Repubblica, ha giunto sempre a Reggio, nominato il 15 settembre scorso dal Consiglio Superiore della Magistratura. Dominiani subentra a Bernardo Petralia, nominato capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il cosiddetto DAP. Alla cerimonia di insediamento il nuovo procuratore generale ha presenziato il Presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis. E per me ha affermato nel suo intervento domeniani un momento particolare, si tratta di una responsabilità che mi pesa molto. Spero di fare qualcosa per questo distretto e conto sull'aiuto del Presidente della Corte d'Appello e tutti i colleghi. La magistratura nel nostro Paese sta attraversando un momento difficile, sono certo che riusciremo a dare un contributo agli uffici giudiziari di Reggio Calabria. La Procura Generale deve essere intesa non come un ufficio gerarchico, ma come un ufficio servente rispetto a tutti gli altri. Ed è questo che mi impegnerò a fare. Alla cerimonia erano presenti molti magistrati, non solo del distretto di Reggio Calabria, ma anche quello di Cadanzaro, dove Dominiani, lo ricordiamo, è stato sostituto procuratore della Repubblica. In questo momento per me, ha sempre detto Dominiani, c'è molta emozione. Ricordo con piacere tanti colleghi, procuratore di Cadanzaro e di Reggio Calabria, Nicola Gratteri e Giovanni Bombardieri ed i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Reggio, Giuliana Campagna e Bruno Muscolo. Dominiani, parlando con i giornalisti al margine della cerimonia di insediamento, ha sottolineato l'importanza della collaborazione che il suo ufficio dovrà avere con gli altri uffici giudiziari e la continuità con l'ottimo lavoro fatto dai precedenti procuratori generali di Reggio Calabria. Noi dobbiamo dare ausilio, ha concluso il nuovo procuratore generale di Reggio, agli altri uffici giudiziari e ovviamente supportarli. Questo è il nostro compito.